Com'è stato questo percorso? Come stai oggi? Come stai cambiando? Cos'è successo? Una parola sola, la speranza, l'aver riconquistato la speranza. La cosa che mi ha aiutato, in cui mi ha aiutato il percorso è stato proprio un... di acquistare un po' una serenità, nel senso che sicuramente io ho cambiato lavoro e quindi di questo sono molto contenta, sono molto più serena. Aver avuto la possibilità di riaffacciarsi sul mercato in maniera anche proattiva e senza farsi frenare mi ha permesso di sentirmi un po' più sicura e meno paurosa nel buttarmi. Cioè sono passata da sentirmi una persona che difficilmente raggiungeva i suoi obiettivi al vai bene così. Quello che aggiunge il percorso è anche poi la parte applicativa pratica. Ma il percorso è fatto da una prima parte interiore, una seconda parte di approccio, pianificazione del proprio obiettivo e poi una terza parte proprio degli strumenti. È un percorso a tutto tondo su quello che riguarda un po' il cambiamento professionale. Quindi lo consiglierei a chi veramente sta cercando un attimo di buttarsi o quantomeno di ritrovare quella fiducia persa nel tempo.